Oh, benvenuti! Io sono Yake e oggi si continua con Heidi. Allora, l'altra volta mi sono reso conto che ho registrato ovviamente tutto il capitolo 1, però ovviamente dovevo spezzettarlo. E quindi dividerò i video in questo modo. Episodio, cioè tipo storia 1, parte 1, parte 2, parte 3, eccetera. Storia 2, parte 1, parte 2, parte 3, storia 3, insomma. E così. E via discorrendo. Quindi vai, salvataggio, si va. Lettera da Francoforte, vai! Vediamo un po' oggi che avventure ci porta questo gioco. Stamattina Peter ha portato una lettera da Francoforte. È di Clara? La lettera è del Dottor Reboux. Mi chiede di mandargli due piante rare. Gli servono per finire il suo studio sulla flora alpina. Oh, ma c'era anche un'altra busta da parte di Clara. Guarda quel figlio di puttana di là, guardalo. Devi chiederla a Peter. Non mi ha dato tregua finché non gli ho dato la busta. Era così emozionato che si è persino dimenticato il cestino della merenda. Allora gli porti i suoi panini e il burro. Spero che non abbia aperto la busta senza di me. Dai, andiamo, andiamo. Corriamo, corriamo. Perfetto. Guardalo là, figlioletto di puttana. Lo Ioidello? Ok. Minchia, stava tirando su. Guarda che voglio vedere cosa fa prima. Ah, fanno una lancia. Ok, mi sono spaventato per nulla. Vieni qua. Voglio vedere cosa... Madonna, che schifo. Oh no, è ancora vivo. Ma figlio di puttana. Un piccolo iodellino. No. Madonna, quanti ce n'è adesso? Si iniziano i nemici, iniziano i nemici, iniziano i nemici. Guarda, un altro là. Ma io devo andare? Ah, meno male. Al burrone devo andare. Ovviamente devi portare i panini al burro. Allora, di là. Perfetto. Quindi... Di qua. Bello come il suono tipo... Ah, lo fa proprio con la voce umana e non con la voce tipo... Oh, dai da golem. Ma la fa con una voce misera. Giusto di qua, al pascolo. Al burrone, giusto, non al pascolo. Che cazzo è? Funghi porcini. Ah, bello. Ma come? Stavolta l'ha fatto dopo la vibrazione. Cioè la... Cioè, ma pensa te che ogni volta, adesso che devo passare da questo posto, ci sono sempre gli stessi mazzi che vengono giù. Il burrone è di qua? Aspetta, vediamo, perché qua... Ah, ok, giusto, sì, sì. Devo passare... Ma che bello quello. Voglio andare a trovare... Sì, ho capito. Prima voglio uccidere quello. Sai, questo gioco ha un bel combat system. Vieni... Madonna. Chissà se ci saranno altri tipi di nemici più in là. O ci saranno solo quei due. Questo non si è mosso da qui. Vai, fagottino. Peter, ti sei dimenticato la merenda. Ah, sì? Ma cosa ti è successo? Di solito hai sempre una fame. Ho visto un ghiacciaio che si stava sciogliendo e mi sono spaventato. Le capre sono scappate in tutte le direzioni. E io ho perso la lettera di Clara. Ma ora sei un coglione. Cerchiamo di recuperare tutte le capre. Oh, caccia agli animali. In questo gioco alcuni animali si nascondono nelle immagini. Cerca di catturare il maggior numero di animali possibili facendo clic sopra. Ok. Ah, devo provare al centro, non nel dentro. Madonna, che emozione! Eh, quale è scomparso. 27. Io sinceramente sto andando a caso perché... Dai! No, è scomparso. Sì, potrei anche prenderne solamente una in effetti perché non dice di... Dice solo il più possibile. Questa non si prende. Perchè scompaiono subito, eh? Scompariscono subito. Hai vinto. Bene. Io adesso posso cercare la lettera di Clara. Ottimo. Ecco le qua le capre. Le trapassa senza problemi. Siete vicini ai pericoli della montagna e questi iniziano a caricare la loro energia. Sconfiggili con lo yodel, sì? Ok, ma dai. Allora, il burrone, vediamo se lo dice dov'è. Sì, è là. Quindi la lettera lo dice già dov'è. Non devo cercarla come un rincoglionito. Qua sotto? Cosa c'è? Magari c'è un extra. Al massimo! Minchia, l'ha triturato. Comunque io mi sono ammazzato le gambe ma di là c'era da uscire. Cioè c'era la salita che si scendeva. Io ovviamente scelgo sempre la via più dolorosa. Allora. M. Eh sì, vado su di qua, dai. Tanto è uguale. Allora, questo è il tratto della guida turistica. La roccia dell'Eleco offre uno splendido panorama. Ah, ma da qui si può apprezzare il fenomeno dell'Eleco in modo più emozionante che mai. Voglio proprio vedere. Madonna, ma che bella la cascata. Dai, andiamo. La via più dolorosa, ma è la via più rapida. Giù di qua si può anche andare di qua. Madonna, ma è enorme, è enorme. No, ma c'è il fungo, non mi ha preso. Allora. Sì, dai, siamo vicini. Scendiamo giù. No, di qua no, perché si ammazza. Ah, e di la volta buona che si ammazza di qua. Di qua cosa c'è? Andiamo a vedere prima di qua. Perché di là è la volta buona che si ammazza. Ah no, ok, ti fa fare il giro qua. Ottimo, ottimo. Funghetto. Allora. Perfetto. E qua, e qua, e qua, e qua, e qua. E qua da qualche parte. Ho capito. Mi ha fatto scomparire. Allora, di qua non si può andare. Ovviamente te lo mettono come blocco. Niente, non ho voglia di rompere il gioco, di oltrepassare i muri, quindi lasciamo perdere. Andiamo a vedere di qua, visto che sono sceso giù di là. Uh, qua c'è qualcosa di nascosto. Ma dai, ma ti fai male col nulla. Sono in momenti come questi che odio sta telecamera. Uh, un porcino. Funghi porcini. Funghi porcini. Niente. Qua non c'è un cazzo. Riprovo ad andare un attimo di là. No, qua è chiuso. Niente, non c'è niente da fare. Madonna, il rumore dell'acqua cos'è? Il rumore dell'acqua che cazzo è? Però la cosa figa è che cambia musica. C'è la... Eccola là la lettera. C'è la soundtrack... Come che si chiama? Quella dinamica, è figo. Ok, si deve andare giù di là. Io vediamo come ci arrivo. Qua lo ti lascio lì tranquillo, non preoccuparti. Dai che là vedo un fiorellino almeno. Almeno. Eh, minchia, due soltanto. Due ne abbiamo. Due, due, due. Allora, qui niente. È bloccato qui. Ok, quindi si torna indietro. E mo' da lì? Dai, no. Ma sono deficiente. Sto guardando quella cazzo di lettera. Vaffanculo. Senti, io mi butto giù. Eh no, ma non si può da lì. Guarda che ti mettono... Fanculo, bastardi. Ti mettono la... Allora... E ho capito. Dove cavolo si va? No, no. Ah no, pensavo che stava andando giù. Madonna, ma si rigenerano subito, subito. Aspetta che mi uccido anche l'altro e così mi prendo... Il... Il fio... Il flowerino. Proprio al massimo. Ottimo, grazie. Allora, io cosa... Provo a fare una cosa. Qui c'è ancora qualcosa da fare. Ah, allora è di qua. E dove cazzo? Scusa, di là non c'era niente. No c'è... Grazie.